Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, mi trovo qui con una straordinaria attrice, Cristina Moglia. Grazie, un saluto a tutti, rispettatori, a tutte le persone che presto vedranno il nostro film, Nonna ci produce un film, speriamo che vi possiate divertire tantissimo, a presto. Sicuramente, perciò non mancate, è una commedia alla fine, quindi bisogna dirlo, insomma. Una commedia straordinaria, commedia brillante, un po' particolare, un po' surreale. Ecco, e tu interpreti? Io interpreto la figlia di Gabriella Giorgelli, che è la nonna, di Nonna ci produce un film, una nonna meravigliosa. Veramente bellissima. Non tanto per la figlia, ma per Cristina Moglia sì. Ecco qua, perciò si può dire, è un'attrice meravigliosa. Saludiamo tutti i tuoi fan. Ciao a tutti. E ovviamente c'è una sorpresa per te, la manina del salutatore per salutare tutti i tuoi fan. Devo salutare così? Come vuoi, a tua libera scelta. Hello, 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 see you soon, see you soon, see you soon. Un po' come la bacchetta magica mi sembra. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.